bentornati nell'orto in telechia stavolta siamo nella serra del versante nord e qui stiamo assistendo alla gloriosa fioritura del cavolo nero però dove sono in questo punto è molto caldo vabbè facciamo prima una piccola carrellata cavolo nero con un sacco di insetti impollinatori che viaggiano un po per tutti i versi sono piante ormai perenni e arrivano fino al soffitto una fioritura impetuosa però qui e qui sono proprio sotto al ciocco del sole e allora vorrei provare a migrare a migrare qui prendiamo questo rametto di esempio partiamo dal concetto di pianta questa è la pianta dalla sua diramazione principale partono i rami laterali e ogni ramo che sia singolo composto va a sviluppare questo tipo di infiorescenza questo singolo tipo di infiorescenza è detto racemo ovvero un fusto principale da cui si sviluppano tanti rametti laterali e i rametti laterali fondamentalmente portano o direttamente dei fiori o dei rametti ancora più piccoli che portano i fiori in questo caso possiamo parlare di racemo composto ebbene se andiamo a osservare il singolo fiore possiamo vedere che è dotato di quattro petali non a caso vengono dette crucifere e poi se lo guardiamo ancora meglio il centro che però ora non mette a fuoco eccolo qui vediamo sei picciucchini che escono in fuori e un punto è un picciucchino centrale i sei picciucchini che escono in fuori sono la parte maschile che dona il polline il picciucchino centrale è la parte femminile che lo riceve rispettivamente la parte maschile è lo stame e la parte femminile è il pistillo gli impollinatori passando da un fiore di una pianta al fiore dell'altra al fiore dell'altra tornando su questa ritornando su questa passano da un fiore all'altro per prendere il nettare che è racchiuso all'interno di ognuno di questi fiori e per arrivare a prendere il nettare si sporcano di polline prodotto dagli dagli stami e così portano il polline da una pianta sull'altra permettendogli di arrivare ai pistilli appunto delle altre piante questa è la cosiddetta impollinazione incrociata allora una volta che l'impollinazione avviene cosa succede che il fiore sfiorisce ecco ne qui un esempio questo è un fiore che sta sfiorendo vedete che i petali sono un po sguegniti un po sfiappoliti se noi rimuoviamo il petalo ecco che attenzione salta fuori questo picciucchino verde che risulta in questo caso terminante con una pallina eccolo qua questo è il picciucchino la pallina era il picciucchino da cui polline è entrato dalla pallina è entrato e ha impollinato questo che è il frutto adesso è un picciucchino così piccolino ma è concretamente questo l'ovario cioè il punto proprio in cui è avvenuta la fecondazione e questo ovario ora va a crescere in questo caso questo grappoli di fiori è ancora un po indietro ma se passiamo su quest'altra pianta ecco qui un ovario in fase di sviluppo questo ovario questa è una è una piccola siliqua è una giovane siliqua siliqua è il nome per questo tipo di struttura e da adesso in poi cosa succede che la progressione fa sì che in basso in ogni infiorescenza di solito troviamo le silique sempre più mature andando avanti troviamo le silique più piccole e i fiori che hanno già vissuto l'impollinazione e nella parte apicale troviamo i fiori che devono ancora impollinarsi e ancora più in alto i fiori chiusi i boccioli che devono ancora sbocciare perché questa è la progressione che dal basso matura prima e andando verso l'alto progressivamente matura sempre più tardi e niente questo è un piccolo un piccolo focus sull'impollinazione sulla maturazione dei semi di cavolo andando avanti succederà che tutti questi bellissimi fiori gialli cadranno ecco qui una vespa che sta impollinando tutti i fiori cadranno tutti i fiori incominceranno a sviluppare le silique e niente e dopo si tratterà soltanto di vedere le piante che arrivano a maturazione in questo caso possiamo ringraziare questi insetti che ora sono principalmente vespe ecco questo è questo è un esempio in cui andando avanti track questo è un raccemo a cui manca la cima che avevo raccolto per mangiarla quindi abbiamo già tutte le silique in fase di formazione ben presto le piante saranno tutte delle strutture di questo tipo solo silique e man mano che i semi ingrossano le silique si espandono e quando arriverà una maturazione vuota di fortuna abbiamo qui un rametto secco dell'anno scorso ancora attaccato alla pianta tra l'altro ecco che quando arriverà una maturazione diventeranno fondamentalmente così tac e vediamo se in questo caso è vuota però qui abbiamo tre parti in cui la siliqua si è divisa come possiamo vedere sono ballerine allora vabbè due delle parti fondamentalmente racchiudono il seme sono questi due qui le valve racchiudono i semi e questo qui al centro è un setto che divide le due file di semi contenute dalle silique quando arriveremo alla maturazione di tutto vedremo più nel dettaglio come si agisce eccola qui la pelegnaiola se per caso qualcuno vuole un come dire un riferimento io già anni fa avevo fatto un video in cui si vedeva come si agiva per raccogliere i semi dei cavoli quindi basta andare a cercare un percorso nell'orto entelechia capitolo 20 e gran parte di quel di quell'episodio era proprio dedicato a questo per cui in quel caso se volete andare a vedere potete direttamente osservare come ho fatto per raccogliere i semi e niente poi ovviamente mi sento anche di suggerire la visione delle apposite giornate dedicate alle impollinazioni al seed saving avvenute già l'anno scorso nell'evento online dall'orto all'agroforesta ma nella descrizione di questo video trovate tutti i vari riferimenti e niente è molto bello poter essere in compagnia degli impollinatori ma essere anche in tua compagnia in tutto questo assistendo a quella che fondamentalmente per me è sempre una grande meraviglia un'immensa meraviglia la natura che si esprime la natura che compie qualche cosa di straordinario sotto ai cangianti raggi della stella madre sotto agli occhi di tutti eppure ci sembra la cosa più normale del mondo ci sembra la cosa più scontata del mondo ma più passa il tempo più mi dico che non è scontato e merita merita la mia attenzione merita la mia contemplazione merita il mio stupore merita gratitudine e questo è quanto questo è quanto volevo condividere con te oggi per adesso tutto ti auguro un buon attimo presente e ti voglio bene tanti bacetti tanti bacetti grazie